Il canto di suon, di Robert R. McCammon, tradotto da Francesco Vitellini, legge Riccardo Riccobello. Libro primo Parte 1 Il punto del non ritorno Tanto tempo fa Sorella Crip Black Frankenstein La bambina inquietante Cavaliere del Re 1 16 luglio 22 e 27 IDT Washington DC Tanto tempo fa Avevamo una storia d'amore con il fuoco. Pensò il presidente degli Stati Uniti Mentre il fiammifero che aveva appena acceso Per dar fuoco alla sua pipa Bruciava tra le sue dita. Lo fissò Ipnotizzato dal colore E mentre il fuoco cresceva Ebbe la visione di una torre di fiamme alta 300 metri Che vorticava per il paese che amava Bruciando città e cittadine Trasformando fiumi in vapore Sfrecciando attraverso le rovine delle fattorie dell'entroterra E scagliando in un cielo nero Le ceneri di 70 milioni di esseri umani Guardò con terribile attrazione Mentre la fiamma risaliva lungo il fiammifero E si rese conto che lì Su piccola scala C'era sia il potere della creazione Che quello della distruzione Poteva cucinare il cibo Illuminare l'oscurità Fondere il ferro E bruciare la carne umana Qualcosa che sembrava un piccolo occhio scarlatto Che non sbatteva le palpebre Si apria al centro della fiamma E gli venne voglia di urlare Si era svegliato alle due di notte Dall'incubo di un olocausto Aveva iniziato a piangere E non riusciva a fermarsi E la first lady aveva provato a calmarlo Ma lui aveva continuato a tremare E si inghiozzare come un bambino Era rimasto seduto nello studio ovale Fino all'alba Esaminando ancora e ancora le mappe E i rapporti di massima sicurezza Ma dicevano tutti la stessa cosa Attacco preventivo Il fuoco gli bruciò le dita Agitò il fiammifero per spegnerlo E lo gettò nel posa cenere Con inciso il sigillo presidenziale Davanti a lui Il sottile filo di fumo Iniziò ad arricciarsi Salendo verso il condotto Del sistema di filtraggio dell'aria Signore Disse una voce Alzò la testa Vide un gruppo di estranei Seduti con lui Nella sala operativa Vide la mappa digitale Ad alta risoluzione del mondo Sullo schermo davanti a sé La schiera di telefoni E schermi video Collocati a semicerchio Intorno a lui Come la cabina di un caccia E desiderò che ci fosse qualcun altro Seduto al suo posto Che lui fosse ancora soltanto un senatore E di non avere mai saputo la verità sul mondo Signore Si passò la mano sulla fronte Si sentiva la pelle umida Proprio un bel momento per prendersi l'influenza Disse tra sé E quasi scoppiò a ridere per l'assurdità della cosa Il presidente Il presidente non può prendere giorni di malattia Pensò Perché un presidente Non si dovrebbe ammalare Tentò di concentrarsi sulla persona Che stava parlando al tavolo ovale Stavano tutti guardando lui Il vicepresidente Nervoso e furtivo L'ammiraglio Narramor Dritto come un fuso Nella sua uniforme Con il petto pieno di decorazioni di servizio Il generale Sinclair Burbero e attento Con gli occhi come due pezzetti di vetro blu Nel volto dai lineamenti duri Il segretario della difesa Hannan Che sembrava gentile quanto un qualsiasi nonno Ma che era conosciuto come Iron Hans Sia dalla stampa che dai suoi colleghi Il generale Chivington L'autorità in materia di forza militare sovietica Il capo di stato maggiore Bergholz Con il taglio militare E preciso Nel suo onnipresente abito gessato blu scuro E vari altri ufficiali e consulenti militari Sì Chiese il presidente a Bergholz Hannan si allungò per prendere un bicchiere d'acqua Ne beve un sorso E disse Signore Le stavo chiedendo se vuole che vada avanti Tocco la pagina del rapporto aperto Da cui stava leggendo Oh oh La mia pipa si è spenta Pensò Non l'ho appena accesa Guardò il fiammifero bruciato nel posacenere E non ricordò come c'era finito Per un istante vide la faccia di John Wayne nella sua mente Una scena di un vecchio film in bianco e nero Che aveva visto da bambino Il duca stava dicendo qualcosa sul punto di non ritorno Sì Disse il presidente Procedete Hannan fece passare rapidamente lo sguardo sugli altri al tavolo Avevano tutti davanti a sé delle copie del rapporto Come anche altri rapporti classificati Eyes Only Appena ricevuti dalle comunicazioni del NORAD e del SAC Meno di tre ore fa Continuò Hannan Il nostro ultimo satellite da ricognizione Sky Eye è stato accecato Mentre si portava in posizione sopra Katirka Ursa Abbiamo perso tutti i nostri sensori ottici e le fotocamere E ancora una volta come nel caso degli altri sei Sky Eye Crediamo che questo sia stato distrutto da un laser di terra Probabilmente operante da un punto vicino a Magadan 20 minuti dopo l'accecamento di Sky Eye 7 Abbiamo usato il nostro laser AFB di Malmstrom Per accecare un satellite da ricognizione sovietico Mentre sorvolava il Canada Secondo i nostri calcoli Questo lascia loro a disposizione ancora due satelliti Uno che al momento si trova sul Pacifico settentrionale E un secondo sul confine tra Iran e Iraq La NASA sta tentando di riparare gli Sky Eye 2 e 3 Ma gli altri sono rottami spaziali Quello che tutto questo significa, signori È che circa tre ore fa IDT Hannan guardò l'orologio digitale Sul muro di cemento grigio della sala operativa Siamo diventati ciechi Le ultime foto di ricognizione Sono state scattate alle ore 18 e 30 Sopra Yelgava Accese un microfono installato sul terminale davanti a lui E disse Ricognizione Sky Eye 716, per favore Ci fu una pausa di tre secondi Mentre il computer trovava il dato richiesto Sul grande schermo a parete La mappa del mondo si oscurò E fu sostituita da una fotografia satellitare Scattata da grande altitudine Che mostrava la ripresa di una fitta foresta sovietica Al centro della foto C'era un gruppo di capocchie di spillo Collegate dalle sottili linee delle strade Ingrandimento 12 Disse Hannan Con la fotografia riflessa nei suoi occhiali Con la montatura in corno La fotografia Fu ingrandita 12 volte Finché le centinaie di sili di missili balistici Sottici intercontinentali Non furono chiaramente visibili Come se lo schermo a parete della sala operativa Fosse la lastra di vetro di una finestra Sulle strade c'erano camion Con le ruote che sollevavano polvere E si vedevano addirittura dei soldati Vicino ai bunker di cemento Dell'installazione missilistica E alle antenne radar Come potete vedere Proseguì Hannan Con la voce calma e leggermente distaccata Tipica della sua professione precedente Insegnante di storia ed economia militare a Yale Si stanno preparando per qualcosa La mia ipotesi è che probabilmente Stanno portando altre attrezzature radar E armando quelle testate Contiamo 263 sili Soltanto in quella installazione Che ospita probabilmente Oltre 600 testate Due minuti più tardi Lo Sky Eye è stato accecato Ma questa fotografia non fa che rafforzare Quello che già sappiamo I sovietici sono saliti A un alto livello di preparazione E non vogliono che noi vediamo La nuova attrezzatura che stanno portando Il che ci porta al rapporto Del generale Chivington Generale Chivington ruppe il sigillo Della cartella verde davanti a lui E gli altri fecero lo stesso All'interno C'erano pagine di documenti Grafici e tabelle Signori Disse con una voce roca La macchina bellica sovietica Si è mobilizzata al 15% Della sua capacità Negli ultimi nove mesi Non è necessario che vi parli Dell'Afghanistan Del Sud America O del Golfo Persico Ma vorrei richiamare La vostra attenzione Sul documento contrassegnato Come W6W3 Questo è un grafico Che mostra la quantità Di rifornimenti Che è stata incanalata Nel sistema di difesa civile russo E potete vedere da soli Il salto che ha fatto Negli ultimi due mesi Le nostre fonti sovietiche Ci dicono Che oltre il 40% Della loro popolazione urbana Ora ha lasciato le città O si è trasferita Nei rifugi antiattomici Mentre Chivington Parlava della difesa civile sovietica La mente del presidente Tornò indietro di otto mesi A quegli ultimi giorni terribili In Afghanistan Con la sua guerra Con i gas nervini E gli attacchi Con ordigni nucleari tattici E una settimana prima Della caduta dell'Afghanistan Un dispositivo nucleare Da 12 megatoni e mezzo Era esploso In un condominio di Beirut Trasformando quella città Tormentata In un paesaggio lunare Di detriti radioattivi Quasi metà della popolazione Fu cisa all'istante Un gran numero Di organizzazioni terroristiche Ne aveva felicemente Reclamato la responsabilità Promettendo altri fulmini Dalla Con la detonazione Di quella bomba Era stato aperto Un vaso di Pandora Pieno di orrori Il 14 marzo L'India aveva attaccato Il Pakistan con armi chimiche Il Pakistan L'Iran aveva risposto Con un attacco missilistico Sulla città di Jaipur Tre missili nucleari indiani Avevano raso al suolo Karachi E la guerra Aveva raggiunto Un punto morto Nelle distese Del deserto del Tar Il 2 aprile L'Iran aveva scatenato Una pioggia di missili nucleari Forniti dai sovietici Sull'Iraq E le forze americane Erano state risucchiate Nel vortice Mentre combattevano Per respingere gli iraniani Aerei sovietici E americani Avevano combattuto Sopra il Golfo Persico E l'intera regione Era pronta a esplodere Le guerre di confine Si erano diffuse Tra l'Africa del Nord E del Sud I più piccoli Tra i paesi Stavano svuotando Le loro tesorerie Per comprare Armi chimiche E nucleari Dagli intermediari Di armi Le alleanze Cambiavano Da un giorno all'altro Alcune a causa Di pressioni militari Altre A causa di proiettili Di cecchini Il 4 maggio A meno di 20 chilometri A largo di Key West Un pilota Di F-18 americano Dal grilletto facile Aveva sparato Un missile aria superficie Nel fianco Di un sottomarino Russo disabilitato Dei flogger russi Di stanza a Cuba Erano arrivati Urlando dall'orizzonte Abbattendo il primo pilota E gli altri due Di uno squadrone Che era arrivato Come supporto Nove giorni dopo Un sottomarino Sovietico E uno americano Erano entrati in collisione Giocando al gatto E al topo Nell'Artico Due giorni dopo quello I radar Della Distant Early Warning Line Canadese Avevano rilevato Il segnale Di 20 aerei In arrivo Tutte le basi aeree Degli Stati Uniti Occidentali Erano andate In allarme rosso Ma gli intrusi Girarono E fuggirono Prima del contatto Il 16 maggio Tutte le basi aeree Americane Erano passate A DEFCON 1 Con la mossa Corrispondente Dei sovietici Che seguì Entro due ore Ad aggiungersi Alla tensione Quel giorno Ci fu la detonazione Di un ordigno nucleare Nel complesso Della Fiat A Milano Italia Azione rivendicata Da un gruppo Terrorista Comunista Chiamato Stella Rossa Della Libertà Gli incidenti Tra navi di superficie Sottomarini E aerei Erano continuati Per tutti i mesi Di maggio E giugno Nell'Atlantico Settentrionale E nel Pacifico Settentrionale Le basi aeree Americane Erano passate A DEFCON 2 Quando un incrociatore Era esploso E affondato Per cause sconosciute A 30 miglia Nautiche A largo Della costa Dell'Oregon Gli avvistamenti Di sottomarini Sovietici Nelle acque Territoriali Aumentarono Drammaticamente E dei sottomarini Americani Furono inviati A testare Le difese russe L'attività Delle installazioni Russe ICBM Fu ripresa Dai satelliti Sky-I Prima che fossero Accecati dai laser E il presidente Sapeva che i sovietici Vedevano le attività Delle basi americane Prima che i loro Satelliti Fossero messi Fuori uso Il 13 giugno Dell'estate cupa Come la definivano I giornali Una nave da crociera Chiamata Tropic Panorama Che trasportava 700 passeggeri Tra le Hawaii E San Francisco Comunicò il messaggio radio Che erano inseguiti Da un sottomarino Non identificato Quello Era stato L'ultimo messaggio Della Tropic Panorama A partire da quel giorno I vascelli Della marina americana Avevano pattugliato Il Pacifico Con i missili nucleari Armati E pronti al lancio Il Presidente ricordò Il film Prigionieri del cielo Che parlava Di un aereo In difficoltà E prossimo a cadere Il pilota Era John Wayne E il Duca Aveva parlato All'equipaggio Del punto di non ritorno Una linea Superata la quale L'aereo Non sarebbe più Potuto tornare indietro Ma sarebbe dovuto Andare avanti Qualunque cosa accadesse La mente del Presidente Era stata spesso Sul punto del non ritorno Di recente Sognava di essere Al comando Di un aereo Disabilitato Che volava su Un oscuro E minaccioso Oceano Mentre cercava Le luci Della terraferma Ma i comandi Erano a pezzi E l'aereo Continuava Ad abbassarsi Sempre di più Mentre le urla Dei passeggeri Ti risuonavano Nella testa Voglio essere di nuovo Un bambino Pensò Mentre gli altri uomini Al tavolo Lo guardavano Oddio Non voglio più Essere ai controlli Il generale Chivington Aveva terminato Il suo rapporto Il Presidente Disse Grazie Anche se non era Proprio sicuro Di cosa avesse Detto Chivington Sentiva su di sé Gli occhi Di quegli uomini In attesa Che lui parlasse Che si muovesse Che facesse Una qualsiasi cosa Aveva quasi 50 anni I capelli scuri E una bellezza ruvida Lui stesso Era stato un pilota Aveva pilotato Lo shuttle Olympian Della NASA Ed era stato Uno dei primi A fare una passeggiata Nello spazio Con uno zaino a reazione Contemplando Il grande globo terrestre Striato di nuvole Si era commosso Fino alle lacrime E il suo emotivo Messaggio radio Penso di sapere Come deve sentirsi Dio Houston Aveva pesato Più di tutto il resto Nel fargli ottenere La presidenza Ma aveva ereditato Gli errori Di generazioni Di presidenti Prima di lui Ed era stato Assurdamente ingenuo Per quanto riguarda Il mondo Che esisteva All'alba Del ventunesimo secolo L'economia Dopo una ripresa A metà degli anni Ottanta Era finita Fuori controllo Il tasso di criminalità Era sconcertante E le prigioni Erano mattatoi Pieni zeppi Centinaia di migliaia Di senza tetto La Nazione dei disperati Come li chiamava Il New York Times Percorrevano le strade Dell'America Senza potersi Permettere un riparo E incapaci Di resistere mentalmente Alla pressione Di un mondo Allo sbando Il programma militare Star Wars Che era costato Miliardi di dollari Si era dimostrato Un disastro Perché ci si rese conto Troppo tardi Che le macchine Riuscivano a lavorare bene Solo quanto gli umani E la complessità Delle piattaforme orbitali Sconvolgeva la mente E superava il budget Gli intermediari di armi Avevano fornito Una tecnologia nucleare Rozza e instabile A paesi del terzo mondo E a comandanti pazzi Assettati di potere Nella seducente E precaria arena globale Le bombe da 12 chilotoni Approssimativamente Della potenza Dell'ordigno Che aveva decimato Hiroshima Adesso erano comuni Come le bombe a mano E potevano essere Trasportate in una 24 ore Le rivolte rinnovate In Polonia E gli scontri Per le strade di Varsavia Dell'inverno precedente Avevano fatto scendere Sotto zero Le relazioni Tra Stati Uniti E Russia Rapidamente seguiti Dal collasso E dalla disgrazia nazionale Del fallito complotto Della CIA Per assassinare I leader Di liberazione Polacca Siamo sull'orlo Del punto Di non ritorno Pensò il presidente E sentì Un orribile impulso Di ridere Ma si concentrò Per tenere Le labbra Strettamente sigillate La sua mente La sua mente Era alle prese Con un'intricata Rete di rapporti E opinioni Che portavano A una conclusione Terribile L'Unione Sovietica Stava preparando Un attacco preventivo Che avrebbe Completamente distrutto Gli Stati Uniti D'America Signore Disse Hannan Infrangendo Il silenzio inquietante Il prossimo rapporto È dell'ammiraglio Narramor Ammiraglio Un'altra cartella Fu dissigillata L'ammiraglio Narramor Un uomo magro E dall'aspetto asciutto Sui 65 anni Iniziò a elencare Informazioni classificate Alle 19.12 Degli elicotteri Da ricognizione Britannici Decollati Dal cacciatorpediniere Lanciamissili Fife Hanno sganciato Delle sonoboe Che hanno confermato La presenza Di sei sottomarini Non identificati A 73 miglia A nord Delle Bermuda Angolo di rotta 300 gradi Se questi sottomarini Si stanno avvicinando Alla costa nord orientale Sono già portata Di tiro Di New York City Di Newport News Delle basi aeree Della costa orientale Della Casa Bianca E del Pentagono Guardò il presidente Dall'altro lato Del tavolo Con occhi grigio fumo Sotto spesse Sopracciglia bianche La Casa Bianca Era a 15 metri Sopra le loro teste Se ne sono stati rilevati Sei Disse Potete stare certi Del fatto che Ivan Ne ha almeno Tre volte tanti Là fuori Possono mandarci Contro diverse Centinaia di testate Che ci colpiranno Da 5 a 9 minuti Dopo il lancio Volto a pagina Fino a un'ora fa I 12 sottomarini Sovietici Di classe Delta 2 A 260 miglia A nord ovest Di San Francisco Stavano ancora Mantenendo la loro posizione Il presidente Si sentì disorientato Come se tutto quello Fosse un sogno A occhi aperti Pensa Si disse Maledizione Pensa Dove sono I nostri sottomarini Ammiraglio Si sentì chiedere Con quella Che avrebbe potuto Essere la voce Di un estraneo Narramor Richiamò Un'altra mappa Computerizzata Sullo schermo A parete Mostrava Una linea Di puntini Lampeggianti A circa 200 miglia A nord est Di Murmansk URSS Il richiamo Di una seconda mappa Fece comparire Il baltico Sullo schermo E un altro Distaccamento Di sottomarini Nucleari A nord ovest Di Riga Una terza mappa Mostrò La costa orientale Della Russia Una linea Di sottomarini In posizione Nel mare di Bering Tra l'Alaska E il territorio Sovietico Teniamo Ivan In una morsa D'acciaio Disse Narramor Ci dia il comando E affonderemo Tutto quello Che tenterà Di sfondare Credo Che l'immagine Sia molto chiara La voce Di Hannan Era calma E ferma Dobbiamo Far retrocedere I sovietici Il presidente Restò in silenzio Tentando di mettere Insieme Dei pensieri logici I palmi Delle sue mani Stavano sudando E se Se non stanno Pianificando Un attacco Preventivo Se credono Che lo stiamo Facendo noi Se mostriamo Forza Non potremmo Spingerli Al punto Di rottura Hannan Prese una sigaretta Da un astuccio D'argento E l'accese Gli occhi Del presidente Furono di nuovo Attratti Dalla fiamma Signore Rispose Hannan Gentilmente Come se parlasse Con un bambino ritardato Se i sovietici Rispettano qualcosa È la forza Lei lo sa bene Come chiunque altro In questa stanza Specialmente Dall'incidente Nel Golfo Persico Vogliono territori E sono pronti A distruggerci E ad accettare La loro parte Di caduti Per ottenerli Diavolo La loro economia È peggiore Della nostra Continueranno A spingere Finché non ci spezzeremo O attaccheremo E se aspettiamo Fino a spezzarci Che Dio ci aiuti No Il presidente Scosse la testa Ne avevano parlato Molte volte E l'idea Gli dava la nausea No Non sferreremo Un attacco preventivo I sovietici Continuò Hannan Con pazienza Capiscono La diplomazia Del pugno Non sto dicendo Che dovremmo Distruggere L'Unione sovietica Ma credo Fermamente Che questo è il momento Per dire loro Con decisione Che non ci lasceremo Spingere E che non permetteremo Che i loro sottomarini Nucleari Restino fermi Davanti alle nostre coste In attesa Dei codici di lancio Il presidente Si fissò le mani Il nodo Della sua cravatta Gli dava la sensazione Di un cappio Ed era sudato Sotto le ascelle E nella parte bassa Della schiena Il che significa Chiese Il che significa Che intercettiamo Questi maledetti Sottomarini Immediatamente Li distruggeremo Se non se ne andranno Passiamo A Defcon 3 In tutte le basi aeree E in tutte le installazioni ICBM Hannan Fece scorrere Lo sguardo Rapidamente Intorno al tavolo Per vedere Chi era Dalla sua parte Solo il vice presidente Distolse lo sguardo Ma Hannan Sapeva che era Un uomo debole E la sua opinione Non aveva peso Intercettiamo Ogni vascello Nucleare sovietico Che lascia Riga Murmansk O Vladivostok Riprendiamo Il controllo Del mare E se questo Implica Un limitato Scontro nucleare Allora che sia Un blocco Disse il presidente Questo Non li renderebbe Più desiderosi Di combattere Signore? Il generale Sinclair Parlava con l'accento Rustico e semplice Della Virginia Credo che il ragionamento Sia questo Ivan deve credere Che rischieremo I nostri culi Per spedirlo All'inferno E ritorno E a essere onesto Signore Non credo Che ci sia un uomo Che resterà seduto Tranquillamente Permettendo a Ivan Di spararci contro Un casino Di SLBM Senza rispondere Con i nostri Indipendentemente Dal prezzo Incaduti Si chinò in avanti Con lo sguardo Pungente Diretto al presidente Posso portare Il sac E il Nora Da DEFCON 3 Entro due minuti Dalla sua autorizzazione Posso mandare Uno squadrone Di B1 Direttamente Alla porta Sul retro Di Ivan Entro un'ora Solo Per pungolarlo Un po' Sa Ma Penseranno Che stiamo Attaccando noi Il punto È che Allora Capiranno Che non abbiamo Paura Disse Hannan Facendo cadere La cenere Nel posa cenere È folle D'accordo Ma per Dio I russi rispettano La follia Ancora più Dalla paura Se permettiamo Loro di portare Dei missili nucleari A minacciare Le coste Senza alzare Un dito Stiamo firmando Una condanna A morte Per gli Stati Uniti D'America Il presidente Chiuse gli occhi Poi li riaprì Di scatto Aveva visto Città in fiamme E cose nere Bruciate Che un tempo Erano state Esseri umani Con uno sforzo Disse Io non Non voglio essere L'uomo Che scatena La terza guerra mondiale Lo potete capire È già iniziata Intervenne Sinclair Maledizione L'intero dannato mondo È in guerra E tutti stanno aspettando Che Ivan o noi Diamo il colpo Del K.O. Forse l'intero futuro Del mondo Dipende da chi è disposto A essere il più folle Sono d'accordo con Hans Se non ci muoveremo Molto presto Cadrà una pioggia Pesantissima sul nostro Tetto di latta Si ritireranno Disse Narramore In tono piatto Si sono già ritirati In passato Se inviamo Dei gruppi di cacciatori Contro quei sottomarini E li facciamo saltare In aria Sapranno dove abbiamo Tracciato la linea Quindi Restiamo seduti Ad aspettare O facciamo loro Vedere i nostri muscoli Signore Insistette Hannan Guardò di nuovo L'orologio Su cui si leggeva Che erano le 10 e 58 Credo che la decisione Spette a lei adesso Non voglio Gridò quasi Aveva bisogno di tempo Di andare a Camp David O a fare uno di quei lunghi viaggi Di pesca Che gli piaceva fare Quando era senatore Ma adesso Non c'era più tempo Teneva le mani intrecciate Davanti a sé Il suo volto Sembrava così teso Che temette Che si sarebbe crepato E sarebbe caduto A pezzi Come una maschera E lui non voleva Vedere cosa c'era sotto Quando sollevò lo sguardo Gli uomini potenti In attesa Erano ancora lì E i suoi sensi Sembrarono Abbandonarlo Come un vortice La decisione Doveva essere presa Subito Sì Quella parola Non aveva mai avuto Un suono così terribile Prima Va bene Andiamo a Fece una pausa E un respiro profondo Andiamo a DEFCON 3 Ammiraglio Allerti le sue unità operative Generale Sinclair Non voglio Che quei B1 Entrino di un centimetro In territorio russo E' chiaro? I miei equipaggi Potrebbero percorrere Quella linea Mentre dormono Inviate i vostri codici Sinclair si mise al lavoro Sulla tastiera del terminale Davanti a lui Poi Sollevò il telefono Per dare l'autorizzazione vocale Allo Strategic Air Command A Omaha E alla fortezza Della North American Air Defense Nel Monte Cheyenne Colorado L'ammiraglio Narramor Sollevò il telefono Che lo mise Istantaneamente in contatto Con le operazioni navali Al Pentagono Entro qualche minuto Ci sarebbe stato Un grande incremento Dell'attività Nelle basi aeree E navali Del paese I codici DEFCON 3 Avrebbero attraversato I cavi E sarebbe stato eseguito Un altro controllo Sull'equipaggiamento radar Sui sensori Sui monitor Sui computer E su centinaia Di altri dispositivi militari Hightech Così come sulle dozzine Di missili cruise E le migliaia Di testate nucleari Nascoste in sili Sparsi nel Midwest Dal Montana Al Kansas Il presidente Era stordito La decisione Era stata presa Il capo di stato Bergholz Aggiornò la riunione E si avvicinò Per afferrare La spalla del presidente E dirgli Che aveva preso Una decisione Buona e solida Quando i consiglieri Militari E gli ufficiali Lasciarono la sala Operazioni E si diressero All'ascensore Nel corridoio All'esterno Il presidente Restò seduto da solo La sua pipa Era fredda E non si preoccupò Di riaccenderla Signore Sussultò Voltando la testa Verso la voce Accanto alla porta C'era Hannan Sta bene? Sto benissimo Il presidente Fece un sorriso Fiacco Gli era appena Venuto in mente Un ricordo Dei suoi giorni Di gloria Come astronauta No Ma Gesù Non lo so Credo di sì Ha preso La decisione Giusta Lo sappiamo entrambi I sovietici Devono rendersi conto Che non abbiamo paura Ma io ho paura Hans Io ho Dannatamente paura Anch'io Ce l'hanno tutti Ma non dobbiamo Essere governati Dalla paura Si avvicinò al tavolo E sfogliò Alcune delle cartelle Qualche minuto dopo Sarebbe entrato Un giovane uomo Della CIA Per distruggere Tutti i documenti Credo sia meglio Se fa scendere Julian e Corey Nel seminterrato Stanotte Non appena Avranno fatto I bagagli Ci inventeremo Qualcosa Per la stampa Il presidente Annui Il seminterrato Era un riparo Sotterraneo Nel Delaware Dove la first lady Il figlio Di sette anni Del presidente Membri importanti Del gabinetto E gente Del personale Sarebbero stati Così speravano Protetti Da tutto Tranne che Da un colpo Diretto Con una testata Nucleare Da un megatone Da quando La notizia Del seminterrato Costruito Con attenzione Era trapelata Al pubblico Diversi anni Prima Simili ripari Sotterranei Avevano iniziato A comparire In tutto il paese Alcuni scavati In vecchie miniere E altri Nelle montagne Gli affari Per i survivalisti Stavano andando Bene Come non mai C'è un argomento Di cui dobbiamo parlare Disse Hannan Il presidente Poteva vedere Il proprio volto Scavato E con gli occhi Infossati Riflesso Negli occhiali Dell'altro L'operazione Artigli Non è ancora Il momento Per quella Il suo stomaco Si era annodato Neanche lontanamente Sì È il momento Credo che Lei sarebbe più al sicuro Nel centro di comando Aviotrasportato Uno dei primi bersagli Sarebbe il tetto Della Casa Bianca Ho intenzione Di mandare Pola Nel seminterrato E come Salli Ha l'autorità Di mandarci Chiunque altro vuole Ma io Preferirei Unirmi a lei Nel centro Aviotrasportato Se posso Sì Certo La voglio con me E Continuò Hannan Ci sarà Un ufficiale Dell'aviazione A bordo Con una valigetta Ammanettata Al polso Conosce i suoi codici Li conosco Quei codici In particolare Erano tra le prime cose Che aveva imparato Dopo aver assunto La carica Una fascia Di tensione Ferrea Gli strinse la nuca Ma Non dovrò usarli Vero Hans Chiese Quasi implorante Molto probabilmente No Ma se dovrà farlo Se Dovrà farlo Voglio Che ricordi Che a quel punto L'America Chiamiamo Sarà morta E nessun invasore Ha mai messo piede Su territorio americano Né mai Lo farà Allungò Una mano E strinse la spalla Del presidente Con un gesto da nonno Giusto Il punto di non ritorno Disse il presidente Con gli occhi vitrei E distanti Cose Stiamo per superare Il punto di non ritorno Forse l'abbiamo già fatto Forse è già troppo tardi Per tornare indietro Dio ci aiuti Hans Stiamo volando nel buio E non sappiamo Dove diavolo stiamo andando Lo scopriremo Quando ci arriveremo Ci siamo sempre riusciti Prima Hans La voce del presidente Era debole Come quella di un bambino Se Se tu fossi dio Distruggeresti Questo mondo Per un attimo Anna non rispose Poi disse Penso che Aspetterei E osserverei Se fossi dio Intendo Aspettare E osservare Cosa Per scoprire Chi vince Se vincono I buoni O i cattivi C'è più differenza Ormai Hannan Fece una pausa Iniziò a rispondere Ma poi si rese conto Di non poterlo fare Chiamerò L'ascensore Disse E uscì Dalla sala operativa Il presidente Separò le mani Le luci sul soffitto Scintillarono Sui gemelli Che portava sempre Con inciso Il sigillo Del presidente Degli Stati Uniti Io Sto Appostissimo Disse a se stesso È tutto pronto Qualcosa Si spezzò In lui E quasi Iniziò A piangere Voleva tornare A casa Ma casa Era molto Molto Lontana Dalla sua sedia Signore Lo chiamò Hannan Muovendosi lento E rigido Come un uomo anziano Il presidente Si alzò E uscì Per affrontare Il futuro